E ok 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 ci siamo bentornati in questo nuovo video bentornati su Afterset Crypto io sono Emiliano e anche oggi torno al nostro consueto morning with crypto l'appuntamento che ci accompagna dal venerdì con le principali news di mercato con quello che è successo nella notte scusate un po' la voce ma questa mattina è un po' peggio di ieri quindi ho un po' di mal di gola ma appunto spero che capiate tutto e non mi impappini ecco con questa voce ma come sempre prima di partire il mio invito è uno quello di lasciare un bel mi piace qualora questi contenuti fossero di vostro interesse di vostro ganimento mentre tanto col canale e se siete nuovi ricordate di iscrivervi col click sulla campanellina prima delle sempre aggiornate insomma lo sapete quanto sia importante rimanere sul pezzo in un mercato che si muove alla velocità della luce come questo soprattutto visti i movimenti che abbiamo avuto nella giornata di ieri e quindi partiamo partiamo proprio dalla prima news perché poi dopo voglio entrare deep nei mercati nelle chart e capire appunto proprio bene con voi che cosa sta accadendo e cosa è accaduto ma la sec ha informato consensus nella giornata di ieri che chiuderà qualsiasi tipologia di investigazione sulla questione ethereum e quindi su una possibile appunto diciamo utilizzo non autorizzato di securities voi sapete no che la sec ha questa cosa che se la sente veramente molto di andare a indagare tutti per security quindi di utilizzare fondamentalmente di scambiare dei titoli in maniera non autorizzata bene sono informato consensus che non andrà avanti con nessuna tipologia di investigazione questo è ovvio che andremo in questa direzione perché ovviamente essendo stati approvati gli etf spot fondamentalmente su ethereum anche se in realtà non sono ancora live quindi non sono ancora tradabili e non sono ancora attivi e anche i loro effetti quindi non si vanno a sentire più di tanto all'interno del mercato in questo momento se non un'aspettativa ok abbiamo comunque la possibilità appunto di aver chiuso questo caso e manca comunque l'S1 che è l'ultimo modulo insomma che deve essere approvato dalla SEC e di cui già Gary Gensler aveva annunciato come secondo lui potesse essere approvato a fine estate secondo me e secondo me e secondo me e secondo me e secondo anche altri analisti diciamo che si arriverà molto prima dei fine estate cioè non si arriverà a settembre probabilmente ma si arriverà già nel prossimo mese perché appunto ci sono già dei pending che sono stati richieste delle adjustment delle adjustment al documento molto lievi quindi non una cosa chissà quanto impattante all'interno della documentazione e quindi insomma probabilmente potrà andare live in maniera abbastanza rapida e veloce così come Ashdex ha fatto un'altra proposta alla SEC è arrivata da un nuovo documento di richiesta di ETF che questa volta propone sia Ethereum che Bitcoin all'interno quindi una sorta di bullet bilanciato è molto interessante perché ora vedete iniziano ad arrivare anche combinazioni sappiamo che la parte forte di questa tipo di prodotti non è tanto quella di andarseli a usare per conto loro cioè Bitcoin ETF per Bitcoin ETF no è il fatto che possano essere utilizzati all'interno di prodotti magari anche più grandi per andare appunto a dare delle combinazioni e andare a farli e usarli come un tassello appunto di un altro ETF quindi voi avrete investitori andranno a investire su nuove risorse XY e all'interno vi beccherete dentro anche Bitcoin Ethereum senza neanche saperlo insomma quella è la forza di questa roba qua infatti poi appunto c'è questo articolo dove va proprio a far vedere di come sono stati proposti appunto a sé che questa tipologia di prodotti sia stato presentato tutti i moduli necessari volevo vedere con voi quelli che sono i flow degli ETF perché continuiamo in realtà ad avere un flow negativo anche nella giornata di ieri c'è stato una fuoriuscita di 152 milioni di dollari e l'abbiamo visto poi sul prezzo andremo a vederlo ma in ogni caso BlackRock continua a rimanere a zero quindi dopo aver fatto degli flow molto importanti nella settimana che va dal 4 al 7 insomma in questi 4-5 giorni AMA sta poi ferma e non sta andando a scaricare ma sta andando leggermente in stop cioè sta andando in stop non sta andando a comprare e basta chi sta continuando a scaricare un po' di più è sicuramente Fidelity che vedete come aveva fatto precedentemente aveva comprato molto sta andando a scaricare ma ripeto questo dipende dai loro clienti non dipende da Fidelity stessa quindi dipende un po' da quelli che sono poi le persone che hanno comprato quel prodotto a parte il solito Grayscale che gradualmente ha rallentato molto rispetto all'inizio ovviamente ma sta andando anche lui a dare una mano non troppo positiva al mercato e quindi capite che nessuno degli ETF ieri ha comprato nulla l'hanno solamente scaricato il che chiaramente porta pressioni di vendita anche sullo spot market a cui siamo abituati una cosa che volevo invece condividere di prima per se le gainers e losers e a lanciarsi sulle chart è quella di questa promo di Bitget che è molto interessante perché vi appunto guadagnate BGB che è il loro token exchange che è andato molto molto bene da questa che andate a guardare appunto le chart ma che appunto vi venite ricompensati in BGB andando a dare ZKUSDT e ATHUSDT come funziona? funziona dal 18 al 24 di giugno vi potete registrare se non avete ancora l'account trovate qua sotto i link per registrarvi fate ovviamente il case che è obbligatorio su Bitget e a questo punto andate su questa bella pagina nella quale voi vi registrate all'interno fate join now e praticamente sulla base di quella che poi sarà la vostra il vostro volume trading giornaliero avrete una pool di diverso tipo quindi c'è la light pool, la super pool e la diamond pool cosa cambia? cambia chiaramente il guadagno che voi andate a fare chiaramente la light pool è per chi tratta meno di 500 dollari parliamo di volumi di acquisto e vendita combinati quindi veramente molto poco quindi magari ecco già dalla super pool in su è più attendibile la cosa ma in ogni caso appunto vedete sempre sulla diamond pool il guadagno medio dell'utente circa 44 BGB che non sono male perché sono più di 50-60 dollari circa quindi al giorno quindi venite solitamente ricompensati per tradare queste coppie quindi anche da un certo punto di vista fornire liquidità mettiamola così dategli un'occhiata trovate tutti i link qui sotto in descrizione passiamo invece a quelli che sono i gainers delle 24 ore troviamo un po' il mondo ethereum che torna un pochettino in auge con lido dao che fa un più 20% abbiamo ins ethereum name service che fa un più 14 abbiamo zk sync che fa un più 12 ma ripeto zk sync deve ancora trovare un po' la sua dimensione come ovvio che è appena listato hardware un più 11 bretto un più 10 maker un più 10 pepe un più 9, render un più 9 pendolo un più 9 bit tensor un più 8 insomma molti al coin non ho rimbalzato vedremo il perché ton invece tra i top losers con un meno 6 jasmine un meno 3 monero un meno 3 jupiter un meno 2 celeste un meno 2 poi niente di particolare da segnalare questo perché bitcoin ieri è andato a pescare liquidità bene all'isotto dei 65 mila dollari perché è arrivato proprio nella zona di 64,6 mi piace vederlo con voi magari a livello orario giusto per capire di cosa stiamo parlando in maniera un po' più deep perché abbiamo fatto questo pump del 17 di giugno che ci ha riportato nella zona di 67 poi siamo andati giù dritti e abbiamo continuato il nostro downtrend qui potenzialmente abbiamo costruito una sorta di botto morale perché vedete tutte queste zone qua guardate che belle shadow che si sono andate a creare davano un po' l'impressione di avere una sorta di controllo i bulls anche i volumi sono andati vedete da un'accelerazione volumetrica a rallentare molto poi c'è stato questa sorta di diciamo di finta perché siamo andati giù dritti fino ai 64 e poi è andato in una sorta di v-shape recovery di questo piccolo movimento e tornano a 65,4 movimento che ne ha approfittato molto le alcoin perché vedete comparato questo è quello di ethereum ha fatto più o meno questa cosa ma è stato molto più aggressivo è andato a recuperare un pochino più di trazione perché vedete ethereum è proprio tornato già nella zona di 3.558 che è la zona che vedete in realtà è quella di lunedì cioè prima che si originasse questa sorta di dump torniamo nella zona di 3.500-3.600 il che non lo mette messo malissimo lo mette sempre nel suo range chiaramente e va a testimoniare una sorta di double bottom ma anche la giornata di ieri e voi guardate da proprio a livello proprio di pattern e di candele lo vedete è molto simile questa a quella che avevamo avuto il 14 di giugno come una sorta di scorpacciata diciamo di panic seller ok per il momento insomma questa è la situazione ovviamente non sono dei consigli di trading né finanziari quindi non è che adesso voi comprate ethereum comprate questo comprate quello perché lo sto dicendo io solamente stiamo commentando i grafici giusto? bene ogni tanto lo ripeto perché so che c'è molta gente anche nuova quindi è importante questo usate sempre la vostra testa in ogni caso abbiamo come resistenza ora la 12 e la 26 lo vedete belle strette ma può essere interessante proprio con avendo mantenuto diciamo la zona della 50 quindi dando anche la possibilità di ricrociare i alz e magari riportarsi nelle zone di 3.800-3.700 sono queste zone qui che sarebbero importantissime per poi andare ad attaccare i massimi però ripeto sempre ragazzi fatevi fatevi un po' di zoom out cioè andate sul grafico mensile ok e guardate e capite se questa roba è bullish o è bearish ok a mio parere questa roba qua non ha molto di bearish perché vedete il pattern è molto chiaro con una sorta di double top in questa zona qui ma comunque appunto rimaniamo ben spiegati rialzo 12.26.50 lo so che noi guardiamo i grafici a un minuto tra un po' però appunto cercate sempre di dare un po' di contesto a tutto quanto in gran finale sempre un discorsino va fatto a parte sulla dominance che vedete tende a scendere questa non mi piace più guardarla a livello daily tende a scendere appunto e vedete appunto la dominanza come si risposta e torna a dare respiro ad alcuni 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 soprattutto quelli di big cap quindi di maggiore appunto capitalizzazione questo è quello che abbiamo visto appunto anche nei top gainers e losers detto questo ragazzi mi fermo fatemi sapere anche voi cosa pensate qui sotto i commenti ditemi la vostra vi ricordo di lasciare un like di iscrivervi al canale con il clic sulla campanellina per venire sempre aggiornati dato un'inchiata ai link che trovate qui sotto in descrizione e noi ci vediamo prestissimo con un prossimo video ciao a tutti ragazzi